E lo condussero da Ponzio Pilato, implacabile governatore romano, responsabile della crocifissione di molte persone. Che cosa volete da me a quest'ora del mattino? Abbiamo trovato quest'uomo che sovvillava il popolo! Ha provocato un tumulto nel mercato del Tempio! Quale sarà la tua sentenza? Condannalo! Non trovo alcuna ragione per condannare quest'uomo, nessuna ragione. Per noi è colpevole. Dice alla gente di non pagare il tributo all'imperatore. Si fa chiamare il Messia. Dice di essere re. Dice di essere re? Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. Ha cominciato in Galilea e ora è arrivato qui. In Galilea? Costui dunque è un Galileo. In questo caso, è Erode che deve giudicarlo. Si trova ancora qui a Gerusalemme, vero? Portatelo da Erode. Grazie!